Ciao amici della cooperativa Bucaneve, volevo farvi tanti auguri, compiere 30 anni significa compiere un'età importante, intanto perché a 30 anni si è giovani e nel pieno del vigore, anche se sembra che di tempo ne sia passato tanto, siete nel momento migliore della vostra forma, ve ne auguro altri 300, sempre meglio di come state facendo. Bucaneve c'è, un caro saluto da Guido Meda e tanti auguri per questo traguardo. Grazie per la visione!